Voi la sapevate, quella dell'uomo nudo che ha fatto l'invasione di campo agli Oscar? È successo davvero. La cerimonia era quella del 1974. Sul palco c'era l'attore David Niven che stava presentando l'evento. Oltretutto stava facendo un discorso per presentare Elizabeth Taylor, un omino giusto piccolino. Da un momento all'altro un uomo nudo appare dietro di lui e inizia a correre. Corre sul palco, fa un segno della pace in camera e scappa via. Ovviamente scoppiano tutti a ridere, pure David Niven. E chiude poi la questione con una battuta sagace e brillante come è sempre stato lui. E cioè, non è affascinante pensare che l'unica risata che questa persona farà fare nella sua vita sarà per essersi spogliata e aver fatto vedere a tutti le proprie mancanze. Game, set, match. E voi la sapevate questa? Mi raccomando seguiteci così ve ne racconto altre.